Consigliere Pettinari, lei oggi torna a parlare di sanità, un discorso articolato su alcune problematiche che lei sottolinea da tempo e con forza. Sì, abbiamo raccolto una serie di criticità da parte dei cittadini abruzzesi dei veri e propri gridi d'allarme, diciamo così. Intanto dalle madri, padri abruzzesi che ci denunciano appunto che non possono iscrivere i propri figli ai pediatri perché c'è una carenza cronica appunto di pediatri e ci sono troppi pazienti. Non hanno pubblicato le cosiddette nuove carenze, non hanno istituito le nuove sedi, quindi mancano pediatri. Ci sono tanti bambini che hanno necessità. Regione Abruzzo ha una grande responsabilità di risolvere questo problema. Ho fatto una grande interlocuzione, ancora risolvono il problema. Si faccia presto ogni bambino, ogni figlio della nostra terra deve avere un'assistenza sanitaria pediatrica. Addirittura abbiamo scoperto che ci sono pediatri che hanno superato di gran lunga il massimale consentito da legge, altri che non riescono ad arrivare alla soglia. Questa è una disparità di trattamento inqualificabile. Abbiamo raccolto anche il grido dell'allarme dei ragazzi universitari dell'Università di Medicina di Chieti e dell'Aquila che, non essendo stati vaccinati, non possono fare i tirocini nei reparti e quindi non possono fare gli esami e non possono laurearsi, pur essendo loro assimilabili agli operatori sanitari e quindi ne avremmo tanto bisogno. Si faccia presto, come stanno facendo altre regioni virtuose, si faccia un piano di vaccinazione con priorità a questi nostri ragazzi. Abbiamo rilevato una criticità nella piattaforma informatica per l'adesione ai vaccini degli ultraottentenni nei giorni scorsi. Questa piattaforma non ha sempre funzionato, ha creato disagi, non tutti hanno potuto aderire. Chiediamo anche con forza come verrà gestita questa mole di informazioni. C'è il Regione Abruzzo adesso che farà a seguito delle adesioni? Stirerà una graduatoria? Chi saranno i primi vaccinati? Chi saranno gli altri? Ci saranno dei criteri? Non sappiamo nulla. I punti di erogazione dei vaccini sembrano essere molto pochi, ne vorremmo anche di più. Abbiamo rilevato quella focolaio nel CUP di Pescara, un focolaio dove sono stati investiti diversi operatori del reparto appunto e poi al danno la beffa perché scopriamo che nel CUP di Pescara il cittadino si deve recare sul posto per pagare. Non esiste il pagamento online. Questa è una cosa che non esiste. Non può andare avanti e devono risolverlo. Immediatamente 200.000 visite di specialistica ambulatoriale sospese in Abruzzo a causa Covid non sono state riposizionate. Ci sono oncologici, malati cardiovascolari che hanno problemi serissimi, devono fare subito di più perché le persone non possono ammalarsi a causa di visite che non vengono riprogrammate. Concludiamo con l'ospedale di Penne. Sono state di fatto portate da 40 a 20 posti letti o area medica, da 11 medici a 4 medici. Un depotenziamento e declassamento vergognoso. Mancano i servizi e questa è una situazione che nonostante avevano promesso di riclassificare l'ospedale in ospedale di base, sede di pronto soccorso. L'ospedale sta letteralmente morendo.